Ciao Funga, se puoi raccontare il vostro lavoro che è importante. Sì, innanzitutto benvenuti e grazie a tutti. Io sono qui in veste medicine ma soprattutto per ringraziare il settore e tutti i distributori che dal nostro avvio nel 2013 ci sostengono costantemente in questa bellissima avventura che è il portare il cinema negli ospedali e nelle case di cura e oggi anche nei luoghi cittadini di comunità a scopo di cura. Noi lo facciamo in due modi, entrando negli ospedali e realizzando delle sale cinema ovviamente attrezzate per ospitare pazienti allettati e persone che non stanno bene e somministrare cinema come strumento riabilitativo. Quindi la nostra missione è quella di divulgare la forza che il cinema ha che tutti noi ben conosciamo anche a scopo di cura quindi non solo la patologia clinica ma anche il benessere della persona. Lo facciamo con molto rigore, soprattutto scientifico, adottando delle ricerche che sono in atto da molti anni e qua se potete far scorrere le slide avevo portato dei risultati perché la valorizzazione del cinema adesso lo vediamo, andiamo pure avanti questo è quello che abbiamo fatto ad oggi grazie al contributo di tutta la distribuzione cinematografica questi sono i dati che vi dicevo appunto sono dati scientifici monitorati da un lungo e attento lavoro fatto con medici e psicologi il cinema a tutti gli effetti contribuisce a un miglioramento psicofisico l'abbiamo misurato ed è oltre il 55% una riduzione della percezione del dolore nelle persone che non stanno bene e un dato significativo alla riduzione dell'ansia e dello stress questo significa che soprattutto in un momento come questo che non è purtroppo finito che la pandemia da covid le persone sono molto stressate, hanno molta paura hanno bisogno di essere rassicurate il cinema è l'unico strumento oggi in grado di poterlo fare quindi noi ci auguriamo che si possa ovviamente fare con non solo il contributo dei distributori cinema ma anche quello di tutte le sale cinema gli eventi, gli eventi noi come voi, come tutti realizziamo molti eventi e ringraziamo soprattutto Disney Italia la quale stiamo sottraendo qualche minuto alla loro presentazione Disney è stata la prima azienda che ha creduto nella nostra missione ci sostiene quotidianamente, ci aiuta in questo bellissimo percorso e grazie a loro riusciamo a creare questi eventi charity che per noi sono momenti importanti di raccolta fondi per reinvestire in ricerca scientifica abbiamo anche cimentato la produzione cinematografica con qualche regista importante per raccontare appunto il cinema come importante e forte io ringrazio tutti per questo piccolo tempo dedicato e spero che ci possiate seguire tantissimo grazie grazie, grazie Giulia siamo a grande finale tutti attendono Disney siamo pronti grazie a tutti